buongiorno a tutti sono denis cappellin e da qualche mese vado in giro a scorzare facendo speed hiking quindi escursionismo ma a passo veloce e in discesa qualche corsetta oggi ci troviamo in lessigna in particolare siamo alla conca dei parpari oggi giornata freddissima c'è un freddo incredibile dovrebbero esserci circa 3 gradi vento che soffia discreto faremo conca dei parpari scenderemo verso giazza e poi ritorneremo alla conca dei pari siamo in autunno per cui è la stagione giusta per vedere il cambio di colore dei nostri alberi cercheremo quantomeno di passare da una bella dalla bella foresta delle gosse tornando indietro quindi speriamo di vedere di colori verdi rosseggianti dei nostri alberi che cambiano colore se siete pronti andiamo grazie a tutti 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 grazie a tutti